Buon pomeriggio a tutti, sono Luigi Naracu, se preferite benvenuti a questo nuovo video. Se vi chiedete cosa è questo rigonfiamento che ho qua, è semplicemente la borsa dell'acqua calda, in quanto un dolore assurdo alla parte destra tra collo e schiena. Quindi pre-moment mi prendo una bella borsa d'acqua calda rilassata. E tranquilla per alleviare il tutto. Siamo all'evento di Kid Vegeta Super Strike 25 Stamia. Con tanto di analisi andremo con un team abbastanza classico, un Gotenks, un Super Saiyan 3 Gotenks amico, Full SR perché tanto ce ne freghiamo, e cercheremo di fare questo evento. Dopodiché andremo a fare anche l'analisi del PG che, ve lo dico, non è tra i più bei PG che siano mai usciti nel Super Strike, ma è utile per chi ancora non ha farmato Freezer LR. Questa è la prima run che faccio dell'evento, ma è una GL, le preoccupazioni non ci sono, quindi ho voluto portare First Try. Andiamo un attimo a vedere, mi sembrava di aver tolto internet. A quanto pare non ho tolto internet. E vai. E andiamo un attimino a eliminarlo. Allora, la fase 1 è Kid Vegeta nella sua forma più scarsa, ovvero la forma SR. Penso che basti un 4 Kid di Gotenks per eliminarlo. E andiamo così. Dubito avremo chissà quali difficoltà in mani in questa battaglia, ma non si sa mai. Magari ci sorprende. Mi dubbi che riesca a sorprendermi più di tanto questo qua. Naturalmente, prendete Gotenks Amico, lo sfondate. Senza Gotenks Amico è fattibilissimo. Comunque, qua c'è il nuovo Gohan, preso da poco, nella multi di cooler. Non l'ho ancora provato. Cavolo, qua attacca tre volte a turno. Interessante. Qua vedete C13 che stranamente ancora SR non maxato di SA, per farvi capire quanto ho fatto la storia. Proprio nella storia mi sono impegnato parecchio. Carina, carina la special. Cos'era quel rumore? Non lo so. Buonasera. No, no, c'era un rumore qua mentre registravo. No, 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 era un rumore dal PC. Il solito Yanko. Ah sì, special 10 kg dovrebbe quasi sciottarlo. E poi chiudiamo. Andiamo un po'. E boom! Non è morto, non è morto. Vabbè, non potevamo neanche esagerare con la velocità. Ed ecco fatto. Fai vento estremamente facile, non ha mai. Poi i team utilizzabili sono 100.000. Più o meno la mia idea è prendi un qualsiasi god leader o gogetta, lo metti come amico. Ti fai un team costo risicato. Che è che lo batti? Ormai Superstrike sono una cavolata. Il costo di 100 non è neanche più una limitazione. Volendo puoi andarci... Un po' il capelli... Un suo giuffetto così. Puoi andarci di doppio Gotenks. Penso che vinci comunque. Quindi davvero, davvero risicato. Prendiamoci una vittoria. E passiamo alla seconda parte del video. Ed eccoci qua di nuovo con la gobba di Igor, chiamata bossa dell'acqua calda dopo aver preso il moment, a fare l'analisi del PG. Analisi che a mio avviso è abbastanza piena di rancore e di sofferenza. Kid Vegeta, SSR GL, 6791 HP per 7497 attacco e 3794 di difesa. Costo di 18, come ne confà ai Superstrike. Chi mette 312-130% per un PG per cui avevo abbastanza aspettative. Avevo aspettative elevate, ma aspettavo un buon PG. Non è da buttare completamente, non è da buttare assolutamente, però poteva essere meglio. La leader skill è buona. Ti ho preso posto, è un mini good leader al GL. Più 3 ki e stats più 30% agli AGL. Leader skill, buona. Non mi lamento assolutamente. È un buon leader capace di fare quello che serve che faccia in team AGL. Il problema è la passiva. La passiva è un attacco più di 40% al lancio della special. Ora, perché a me non piace un granché? Per il semplice motivo che potevano sforzarsi di più. Kid Vegeta, SR, scusate, ha un 40%. Ora, io non mi aspettavo andasse al 80%, però almeno 60%, ragazzi. Almeno 60% sarebbe stata una cosa più che accettabile, secondo me. Non sarebbe stato chissà quale sforzo portarlo al 60%. Così rimane un PG carino, un ottimo free to play grazie alla leader skill, davvero buona, ma però ti dà quell'aria che manchi qualcosa. C'è un pochino di risentimento in me riguardo la sua passiva, ma comunque è carino. Link skill, Saiyan Warrior Race, Genio, Saiyan Blood, Saiyan Lineage, Super Bombardamento, quello dei Super Strike. E questa che dovrebbe essere il bombardamento normale, quindi classico anche in questo, niente chi particolari. Sommato, lo reputo un PG interessante, il suo massimo dell'utile nell'evento di Freezer LR, dove è un grandissimo leader, può dire davvero la sua. Seppur continua a preferire Goku LR, ma solo per un fattore di velocità, ma non tutti hanno Goku LR, ragazzi. Quindi questo è il leader che ci vuole per quelli che non hanno Goku LR. Se fai un team full AGL con doppio lui, spacchi. Spacchi Freezer abbastanza facilmente, puoi fare anche un team quasi solo di Vegeta. Con Baby Vegeta, Baby Vegeta 2, lui, Vegeta Angel, Vegeta Super Strike. E fai un team davvero davvero buono. La Special, la Special S1, 220% per 21.441, S10, 355% per 34.598. E se ha 15, che ottiene un bust dell'attacco, che la rendono abbastanza più carina, 430% per 41.907. Non è un PG da gridare al miracolo, assolutamente no. Però è un PG abbastanza veloce da farmare, perché non ci vuole chissà quanto a farmare l'evento. È uno di quei Super Strike che hanno anche lo stage speciale. Nel suo caso dovrebbe essere Corre Vegeta, che vi assicura il drop al 100%, ma potrei sbagliarmi. In questo periodo non lo farmerò. Se ha forse il primo Super Strike che non farmerò subito. Non perché non mi piace, ma perché purtroppo devo dare priorità a quel cavolo di cooler int. In quanto più o meno ho notato che è un cooler, sono sulle 3 stone di refill minimo. Quindi dovrò mirare più o meno a lui per riuscire a portarlo. Ora, alcune informazioni di servizio. È tornato l'evento di Great Siamen. Alla fine pare che non abbiano aggiunto stage o PG, quindi ancora è un mistero domani. O meglio, domani, stanotte alle 4, come verranno aggiunti il Gohan e il Super Buu. Però è stato totalmente resettato l'evento. Sono state resettate tutte le missioni, che quindi potranno essere rifatte anche da chi, come me, le aveva già fatte. Resettate tutte le stone. Quindi dovrebbero essere 18 stone dal completare gli eventi, più altre 3 stone dalle missioni, se non erro. Proprio un tale di 21 stone. Schifo non fa. È una cosa positiva, soprattutto per chi ha già fatto l'evento. Permette anche il farming dei soliti PG. La recensione dell'evento, se non sbaglio, la trovate anche in versione aggiornata nel canale, andata nella playlist guida. È una cosa abbastanza positiva. Si iniziano a farla con tutti gli eventi, magari modificandoli. Oddio, potrebbe essere un aiuto per quelli che sono da molto in questo gioco. Perché ci sono eventi che modificati questo Resurrection of F, per dirne una, che potrebbero dare un bel po' di sorprese. Anche perché molti di noi, dopo l'anniversario che hanno trovato i Golden Freezer Tech, scommetto. Vogliono il ritorno del Resurrection of F per riuscire a portarselo S10 gratuitamente. Detto questo, vi ricordo in descrizione i vari link al gruppo Facebook Global, al gruppo JAP, a Instagram per varie notizie o foto. Se volete supportare il canale, sempre in descrizione trovate il link PayPal solo maggiorenni. Informo inoltre che il concorso global, quello su cui feci un video per poter vincere, se non sbaglio erano 500, 1000 stone. Non ricordo adesso, alla fin fine lo segue Riccardo che seguono Riccardo e Adriano e gli altri admin. Io faccio pubblicità al massimo e quasi alla fine, mancano 6 biglietti, quindi vi consiglio di, se volete provare a vincere, andare un attimo a informarvi guardando il vecchio video oppure il post in modo a sapere come prendere un biglietto. Perché ormai siamo alla fine, mancano 6 biglietti, una volta messi tutti i biglietti ci dovrebbe essere un premio aggiuntivo. Quindi ragazzi, andate, provate, che non vi costa nulla. Tutto questo vi ringrazio per aver seguito, ci vediamo domani con la top 10 super o extrema, ancora devo decidere, e probabilmente con un altro video inerente all'analisi dei due nuovi pg. Che mi dovrebbero prendere la top fisica, sfondarla, buttarla e farvela rifare, ma non be la faccio per la terza volta. E aggiungerò, se mai andranno aggiunti, alle top super extrema. Quindi la top di domani, ragazzi, sarà fatta contando già uno dei due pg in base a quale farò. Altra cosa, ci sono stati a molte persone che si sono chieste perché non ho inserito Goku Super Saiyan 3 nella top AGL. Quindi approfitto di questo momento per dirlo, proprio chiaramente in video. Cosper 3 AGL non è stato inserito perché richiede una combinazione di team che è inferiore alla combinazione di team ideale AGL. Ovvero, non ho inserito Goku Super Saiyan 3 AGL perché per prendere al massimo Goku Super Saiyan 3 AGL richiede Goku Kaioken per 10. Quel pg è inferiore al Goku Blu in quanto non linka come linka lui con Vegeta Blu. Vegeta Blu e Goku Blu linkano per un 40% più 1900% d'attacco bonus, è leggermente superiore. Quindi ti richiede una combinazione di cose che rendono globalmente il team di molto inferiore. Ci sta però che avrei potuto citarlo in decima posizione insieme a Golden Freezer. Alla fine la scelta è, se avete Goku Blu e Vegeta non ci fate nulla con Goku Super Saiyan 3. In caso invece vi manchino potreste utilizzarlo abbastanza bene. Certo, è un pochino più duro da maxare di Goku Blu, però può dare i suoi frutti. Ora, con svegliato tutto non c'è altro da dire e ci vediamo domani al prossimo video. Sperando di non farla con Igor qua accanto. Naturalmente lo chiamo Igor per una citazione a un grandissimo film. Che spero tutti voi conosciate. Alla prossima! Alla prossima!